Bella cornice di pubblico ieri sera nel quartiere di San Michele per lo spettacolo che si è tenuto nella piazzetta antistante al campanile della chiesa di San Michele Arcangelo. Uno show giunto alla sua quinta edizione, utile a raccogliere dei fondi in favore delle attività portate avanti a sciacca dalla mensa della solidarietà. Durante la serata, condotta da Roberta Mandalà, diversi i momenti legati alla musica, al cabaret, alla danza, alla comicità e alla convivialità. I numerosi presenti, tra cui l'assessore comunale Sino Caracappa, hanno contribuito a sostenere la mensa che da oltre otto anni, prima nei locali del Sacro Cuore e adesso in quelli di Santa Caterina, dona un pasto caldo ad una quarantina di indigenti, oltre a quelli che invece i volontari portano a casa di coloro che non possono raggiungere, perché impossibilitati, i locali della mensa. Ad esibirsi ieri sera alcuni talenti della Schené Academy, gli allievi della The Mambo Kings, i Ridi che ti passa e Nino Balistreri, direttamente da Sicilia Cabaret. Inoltre, il pubblico è stato coinvolto con il classico karaoke e con degustazioni di granita e panni kunzato, offerte da alcune aziende del territorio. La manifestazione, coordinata quest'anno dall'Avis, è stata voluta fortemente da padre Pasqualino Barone, fondatore della mensa della solidarietà, che ha invitato i presenti non soltanto a donare, ma anche ad attivarsi nel volontariato, in sinergia con i volontari già attivi da tempo, ringraziando al contempo tutte le associazioni e le persone che si sono spese nel corso degli ultimi anni. Una mensa nel quartiere di Santa Caterina, che ha riaperto i battenti da poco tempo, dopo alcuni lavori necessari al miglioramento della pavimentazione e della cucina. Un'attività solidale di fondamentale importanza, in una città come quella di Sciacca, dove la povertà esiste, ma spesso rimane nascosta dietro un dignitoso silenzio.